e se gli facciamo poi la querela tre mesi in carcere, 5.000 euro, e invece si vanno con cinque copie, quattro copie si consegnano, due alla Camera, due per il Senato, gli si dice io non si deve accettare la scheda per votare, gli si dice io voglio fare un voto legittimo di protesta come la legge, c'è la legge che ha legati sui moduli, se non lo sanno glielo fate vedere, dopodiché gli date due moduli per il Senato, due per la Camera, una copia che ve la devono timbrare per il Senato, finito la scuola, grazie a voi. Unisoni Claudia, allora io due cose velocissime perché sono anche veloce, sono diciamo due questioni